Fini delle feste, il dossier emergenza rifiuti nella capitale è ai primi posti nella lista delle cose da fare del sindaco Ignazio Marino. Dopo giorni di cassonetti stracolmi, spazzatura portata via solo nelle vie centrali e immagini paradossali come quelle di maiali che razzolano tra i rifiuti, il sindaco stringe i tempi. In una lettera aperta il primo cittadino chiede la collaborazione dei romani per la raccolta differenziata. Se è vero che noi amministratori abbiamo la responsabilità di impegnarci più di tutti, scrive Marino, riusciremo a realizzare questo cambiamento epocale solo se le romane e i romani aderiranno con convinzione a questo obiettivo. In questa emergenza rifiuti hanno avuto una responsabilità i romani? Certamente durante il periodo delle feste il numero di rifiuti aumenta, basta pensare ai doni o basta pensare ai rifiuti e agli scarti alimentari. La responsabilità maggiore sta a chi governa la città, quindi a me e alla mia giunta. Ma certamente noi riusciremo a cambiare il modello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solo con la collaborazione di tutte le romane e i romani perché differenziare è un cambio culturale importante. Roma dopo questa emergenza può diventare una seconda Napoli? Assolutamente no, abbiamo una strategia molto chiara, abbiamo chiuso Malagrotta che era una ferita non a Roma ma nel continente europeo, la più grande discarica di tutta Europa, 240 ettari, quasi 350 campi da pallone messi insieme. Doveva essere chiusa 7 anni fa, noi in meno di 4 mesi lo abbiamo chiusa definitivamente. Che cosa non ha funzionato durante queste feste di Natale? Purtroppo c'è stato molto personale che è stato in vacanza, è come se chi dirige un ospedale nel momento in cui arriva a capodanno sapendo che ci sono tante persone in circolazione decide di chiudere il pronto soccorso. Invece di diminuire il personale bisognava aumentarlo. E come è possibile che un'azienda abbia un piano di lavoro così, anziché aumentare il personale lo diminuisce proprio nel momento in cui i rifiuti aumentano? È un piano di lavoro miope e sbagliato ed è per questo che in questa settimana noi cambieremo l'intera dirigenza dell'azienda, cambieremo tutto. E che cosa risponde a coloro che l'accusano di aver messo troppo tempo nello scegliere i nuovi vertici di Ama che da due mesi è senza i suoi vertici? Abbiamo voluto che i vertici antichi arrivassero alle dimissioni perché abbiamo voluto evitare la beffa oltre il danno e cioè di pagare delle buone uscite milionarie a chi in questo momento era in carica. I rifiuti vengono al momento mandati al nord. Roma non ha una discarica. È possibile che una capitale europea come Roma mandi i rifiuti al nord? In questo momento era la soluzione possibile per chiudere Malagrotta che doveva essere chiusa da sette anni. Stiamo lavorando per individuare una piccola discarica di servizio perché vogliamo arrivare a quasi il 70% di differenziata, a riciclo, riuso, alla generazione di gas attraverso la digestione della parte organica dei rifiuti e una sola piccola parte in percentuale dovrà andare in discarica. Nei prossimi giorni lei incontrerà anche il ministro Orlando per il decreto che conferirà poteri straordinari. Roma ha ancora bisogno di questi poteri straordinari? Probabilmente sì. Probabilmente è necessario che ci sia la possibilità di una figura che ha il potere di individuare una discarica di servizio e prendere delle decisioni che con i poteri straordinari sono più semplici. Grazie. Grazie. Grazie.